Le aule, come potete vedere, sono molto, molto grandi. Per noi che eravamo bambinette piccoline erano ancora più enormi. Mi ricordo di fronte c'era il crucifisso, perché ogni mattina la maestra ci faceva zanichieri e ci faceva recitare il Padre nostro e l'Ave Maria. E poi anche il crucifisso, c'era l'erogo della patria, c'era Pazzini e c'era la ribaldi. E più in alto ancora c'era il Presidente di Turbio, all'epoca il Presidente della Santa Catania, lo ricordo bene. Avevamo anche la radio, una radio bellissima, poi posso farla vedere anche nella foto che ho. Questo apparecchio nato piccolino che serviva ad ascoltare, una volta alla settimana, la radio delle scuole. E' un programma che andava in contasso tra il 1 alle 10, lo ricordo come se fosse una. Ed era l'unica tecnologia che potevamo avere. Grazie. 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 Grazie.